Fin da bambino ho capito qual era il mio sogno, ho messo amore in ogni passo come padre, come amico e come professionista. Ho creato Bambu Q. Oggi ho la certezza di aver dato vita a prodotti innovativi e rivoluzionali. Lifestylist è un concetto e secondo il mio punto di vista è una filosofia di vita, pensare, inventare, creare e realizzare delle cose bellissime. Io voglio il meglio, per questo il mio obiettivo sarà quello di continuare giorno dopo giorno ad essere l'artefice di migliaia di sorrisi, di persone soddisfatte perché mi hanno scelto. Grazie a tutti.